Hai già visitato il nuovo shop online di Marco Artesi? Potrai trovare tutta la gamma dei miei prodotti per barba e capelli. Oggi vi presento l'anticrespo, lo slick. Poche gocce, a barba umida. Lo si va a mettere sulla barba, si massaggia leggermente e poi si procede con l'asciugatura, col phon o con l'asciugamano. Slick, l'anticrespo e tutti i prodotti della linea Marco Artesi Barbiere li potrai trovare su www.marcoortesibarbiere.com Sempre sul pezzo.